Tante le aspettative qui in città, i bolognesi aspettano davvero con gioia il Santo Padre qui nella nostra città. Credo che sia davvero importante la presenza del Santo Padre qui perché il lavoro che manca, i numeri dicono che il tasso di disoccupazione è sceso, sicuramente, ma ci sono ancora tanti lavoratori, tante persone che oggi precari qui che sono nella nostra città e nell'area metropolitana. Le aspettative sono tante, qui da poco il mondo delle associazioni insieme anche alla Curia e gli enti locali hanno sottoscritto anche un patto per il lavoro. Questo deve essere un patto che vuole dare la possibilità di dare un posto di lavoro oggi a quegli ultracinquantenni che hanno perso il lavoro. Come dice anche Papa Francesco, il lavoro è dignità, quindi se non c'è lavoro non c'è dignità, quindi sicuramente questo è un segnale importante.